Ho pensato al colore e al mix dei metalli, sia l'argento che l'oro, perché il colore aiuta sicuramente l'espressione di ognuno di noi, da emozioni diverse a seconda delle persone. E il mischiare i metalli, visto che l'argento oramai in questo periodo di crisi sta diventando anche esso un metallo prezioso, può aiutare i costi per il pubblico. Il pezzo unico, il pezzo unico sia disegnato da noi, di nostra fantasia, per proporlo direttamente al pubblico, che il disegno fatto su richiesta di un cliente, per cui l'artigiano è quello che fa la cosa su misura, che insomma è un po' il made in Italy. Ma in realtà l'unica cosa che ho adottato è questa di usufruire anche dell'argento, io prima usavo solo l'oro, adesso uso oro e argento unendole, ma che è una tecnica antica, comunque si faceva anche prima, e poi essere sempre a disposizione del cliente 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno, quello aiuta la crisi. Grazie a tutti.